Al CES di Las Vegas, da poco concluso, Intel ha lanciato i nuovi processori Sandy Bridge, nome in codice che identifica la nuova generazione di CPU Intel Core. Questi processori introducono diversi miglioramenti a livello di architettura e sono ancora più indicati per l'uso in contesti multimediali e ovviamente con i videogame. Ma di contro richiedono una rivoluzione del proprio PC, perché a livello di socket non sono per niente compatibili con i precedenti Core. Per un'inezia, hanno 1.155 piedini invece che 1.156, su queste cose Intel fa veramente arrabbiare. E beh, in buona sostanza ci vogliono nuove schede madri per utilizzarli. Esattamente, tra le varie proposte ce n'è una che si distingue in quanto a funzionalità e prestazioni e che ambisce a diventare il nuovo punto di riferimento per appassionati esigenti ed overclockers. Maximus 4 Extreme è la nuova motherboard Asus con chipset Intel P67, per i processori Intel Core di nuova generazione, nome in codice Sandy Bridge. Appartiene alla famiglia Republic of Gamers e si rivolge quindi ai videogiocatori e agli appassionati di overclocking, offrendo prestazioni al top e un corredo di funzionalità all'avanguardia. Come ROG Connect, una vera e propria telemetria per il vostro PC. Collegando un notebook via USB potrete monitorare lo stato del sistema, ottimizzarne i parametri di funzionamento e perfino overclockarlo, mentre con ROG iDirect potrete fare la stessa cosa ma senza fili, utilizzando un iPhone o un iPad collegati in Bluetooth tramite un'applicazione scaricabile gratuitamente da App Store. Con USB BIOS Flashback potrete aggiornare il BIOS della scheda da chiave USB alla semplice pressione di un tasto e grazie al BIOS di riserva sarete al sicuro anche nel caso di cali di tensione durante il processo di update. Maximus 4 Extreme è la motherboard di riferimento per chi fa overclock. La scheda è dotata di connettori di alimentazione addizionali e di una speciale modalità LN2 per gli overclock estremi con azoto liquido. Tutte queste funzionalità sarebbero privilegio per pochi se ASUS non avesse messo a punto un'interfaccia d'uso semplice e intuitiva chiamata Easy Mode, abbinandola poi a componenti di alta qualità per garantire agli utenti di Maximus 4 Extreme un perfetto controllo del proprio PC e la possibilità di raggiungere nuovi traguardi in termini di overclock e prestazioni, mantenendo un'elevata affidabilità e consumi contenuti durante il normale uso del sistema. ASUS Maximus 4 Extreme dispone di 4 slot di espansione PCI Express a piena lunghezza con supporto Sly e Crossfire, gestisce fino a 32 GB di RAM DDR3, apporte USB 3 e SATA 3 a 6 GB, doppia connessione di rete gigabit e audio integrato ad alta definizione e 7.1 canali.